E cammino insolente, lingue di fuoco accendono la mente, sfidando quella strada intreccio i miei pensieri. Mi sfiorano, mi trovano, si perdono ad un tratto nei tuoi occhi neri. E la notte mi invade, nell'aria sensazioni sgretolate, dalla mia vita passata nasce tutto ciò che accade. Mi chiamano, mi sgridano, mi amano. Angelo nero, dov'è il tuo mistero? A metà della terra, a metà del cielo. Angelo nero, sei tu il mio mistero. A metà della terra, a metà del cielo. Cecilia, non partire subito in quarta. Farò tardi, sì, farò tardi. Ma non è vero che sono un bugiardo, è che non si può programmare il lavoro. No. Poi dipende anche dal computer, lo sai, dai. Cecilia? Cec... No, va il diavolo. I soliti problemi coniugali. Che cos'è? L'uovo di colombo? Nel senso che il matrimonio dovrebbe essere il coronamento dell'amore. Probabilmente quando siamo una donna non si dovrebbe fare l'affronto di chiederla in moglie. In fondo che cos'è il matrimonio? È un contratto. E i contratti di solito sono fatti per chi ha paura. Paura di chi? Angelo nero Dov'è il tuo mistero? A metà della terra A metà del cielo Angelo nero Sei tu il mio mistero A metà della terra A metà del cielo Ehi A metà del cielo Grazie.